uomini e donne centro estetico dimagrimento qui troverete i trattamenti e i servizi estetici all'avanguardia unite ad una consulenza personalizzata per lui e per lei potrete ritrovare il benessere psicofisico grazie a macchinare i prodotti leader nel settore della cosmesi professionale che agendo in sinergia prevengono e combattono i vari tipi di inestetismi radiofrequenza ed infrarosso restituiscono toni di elasticità a viso e corpo endermologia per contrastare gli effetti del tempo indicata a combattere cellulite ed adiposità localizzate lipolaser per ridurre la cellula di posa stimolare la microcircolazione ed agire in modo efficace contro la cellulite abbinato ad un trattamento drenante permette di facilitare l'infodrenaggio dei liquidi in eccesso e l'eliminazione delle tossine uomini e donne centro estetico dimagrimento vi aspetta il mio quintino sella a vicenza e grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti